335 mila euro, questa è la cifra che arriverà nel Salernitano per il risarcimento dei danni subiti dalle imprese agricole a causa del famoso cinipide galligeno che due anni fa distrusse numerose coltivazioni di castagno arrecando problemi al comparto. Nel 2014 infatti nella sola provincia di Salerno il crollo della produzione del preziosissimo alimento autunnale fu dell'85% e oggi la regione vorrebbe rimediare al colpo accusato dalle aziende del settore mediante uno stanziamento di fondi pari a 1 milione 270 mila euro per tutta la campagna. Pertanto all'area del Salernitano perverrà un quarto delle risorse. Queste, secondo quanto stabilito dalla Giunta, saranno accreditate presso le varie comunità montane che a loro volta dovranno trasferire la somma di denaro ricevuta alle imprese danneggiate e dovranno farlo in proporzione al danno subito da ciascuna azienda e entro e non oltre il mese di novembre 2018. Nello specifico i fondi saranno distribuiti così alla comunità montane alburni andranno circa 44 mila euro, alla Gelbison e Cervati 40 mila 616,58, alla Calore Salernitano 42 mila 807,15, alla Alento e Montestella 12 mila 640,64 e alla Bussento, Lambro e Mingardo 6 mila 423,54 euro. Questo dunque è il sostegno che la regione campagna concede agli agricoltori salernitani. Sull'indennizio per l'emergenza cinipide ha però avuto da ridire il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Per Michele Camarano si tratterebbe di un compenso esiguo, tenendo conto che le aziende agricole del comparto salernitano sono all'incirca 5 mila. Il rimborso è una presa in giro, dichiara Camarano. Ci sono voluti ben tre anni per risarcire di una sola annata agli agricoltori. Figuriamoci se la regione è in grado di risolvere il problema alla base. Intanto anche nel 2016 il cinipide del castagno ha messo in ginocchio i castanicoltori della provincia di Salerno e il calo della produzione si aggira intorno al 95%, peggiore dunque rispetto a quello del 2014. Nell'area degli Alburni e del Cilento il problema riguarda in particolar modo i coltivatori di Sicignano, Stio Cilento, Rocca d'Aspide e Maiano Vetere.